Mesh up in the box Mesh up in the box Entri il mio amico Peppo Piero Eccomi qua molli, ciao a tutti, ben ritrovati Buon mercoledì, eh Perché Peppo Piero? Ma sì, perché io sai che sono un appassionato della Peppa Pig Lo guardo tutte le sere Esatto, siccome la domandina di oggi è qual è il personaggio dell'anno Ma sì, ma io la voto Qual è secondo te? No, voto Peppa Pig no Ah sì, ti dico di sì, te lo giuro Assolutamente, ho anche il libricino Ho anche il DVD Me lo guardo in inglese Brava, 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 bellissimo In inglese? Intanto sta cancellando il mio numero di telefono E mi sta cancellando da Facebook E quando mi chiami dico chi è? Chi è? Può dire che non ci sei Posso capire il perché Mesh up in the box, esatto L'appuntamento di mercoledì, secondo di questa settimana Oggi va in onda il Mesh up fatto da Fabian Pizar di Castiglione del Lago E da Rosario Marafini di Cori in provincia di Latina Hanno messo insieme queste due tracce La base di Trade Love, Rock the Disco E la voce, quella dei Basic Connection Una traccia di qualche anno fa Hablame Luna Era anni 90, giusto? Sì, esatto In 96 più o meno Ok, questo è il Mesh up in the box Rinominato da loro Hablame Disco Rock the Disco Rock the Disco Rock the Disco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il vostro mashup è il djmagitalia.com, il sito dove potete andare a votare tutti e due i mashup che sono andati in onda. Esatto, venerdì daremo il premio all'ultimo mashup dell'anno. L'ultimo di quest'anno, Mauri, non l'abbiamo detto. Forse anche l'anno prossimo, perché volevo cambiare un po'. Bravo, ok. Cambiamo, facciamo qualcos'altro. Surpresa.